L'onigo, l'addio al campione, si svolgeranno venerdì nel Duomo i funerali di Davide Rebellin. Stoppa i cellulari in classe, arriva la circolare ministeriale, provveditore di Vicenza, bene che si è ribadito. Parco Fornaci, una vittoria per i cittadini sostenuti da Rete Veneta, arriva la pista di street skate. Corso Santi, Felice e Fortunato, ruba la spesa un ragazzino arrestato dalla polizia. Controlli delle forze, l'ordine ad Arzignano, due minori sorprese alle slot, sanzionati in titolare di un locale. Passaggio di consegna, Andrea Gattuso, nuovo comandante dei vigili del fuoco di Vicenza. Buonasera e benvenuti al TG Vicenza. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia dei funerali di Davide Rebellin. Si svolgeranno venerdì all'onigo. Sarà l'ultimo e partecipato addio al campione, allo sportivo che con le sue prodezze ha conquistato i cuori e inorgoglito i concittadini. Nella tarda serata di ieri è arrivato il nulla osta della procura per celebrare i funerali di Davide Rebellin. L'ex ciclista, morto il 30 novembre a 51 anni a seguito di un incidente a Montebello Vicentino in cui è stato travolto da un camion pirata. Eseque che si celebreranno venerdì 23 dicembre al Duomo di Lonigo a partire dalle 9.30. Prima sarà dato spazio, un po' di spazio anche per le persone che vogliono ricordare o testimoniare il loro affetto oppure anche dei ricordi sportivi con Davide e dopo la cerimonia Davide sarà tumulato nel cimitero di Madonna di Lonigo. Davide era una persona molto semplice, molto alla mano e quindi ben voluto da tutti, tutti i grandi lo ricordano benissimo. Alle 10 poi si svolgerà il rito in Duomo, celebrato da Don Matteo Nicoletti. Prevista la partecipazione di autorità dalla politica allo sport che porteranno l'ultimo omaggio al campione e si stringeranno attorno alla famiglia perché sarà l'intera comunità a piangerlo. L'amministrazione comunale aveva già annunciato la volontà di indire il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Funerali che sono stati rimandati due volte per evitare che vizi di procedura potessero inficiare la validità degli esami autoptici che si sono svolti ieri all'ospedale di Vicenza. Cambiamo argomento perché è arrivata una circolare ministeriale sull'uso dei cellulari nelle classi delle scuole di tutta Italia. Ne abbiamo parlato col provveditore agli studi di Vicenza. Stretta sull'uso dei cellulari in classe e arriva la circolare firmata dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara che contiene le indicazioni sull'utilizzo dei telefonini e ribadisce il divieto di utilizzarli in aula. Ribadisce e è necessario questo intervento dopo il periodo di pandemia, nel momento in cui abbiamo utilizzato il cellulare con modalità molto forti, sia per attività didattiche a scuola che a casa. Quindi serviva per un attimo rimettere nei binari corretti. Con la circolare non vengono introdotte sanzioni disciplinari, la cui gestione dipende dai regolamenti di ogni scuola. Il ministro dice che non facciamo riferimento alle sanzioni, ma la circolare precedente diceva che ogni istituto nel proprio regolamento di disciplina doveva intervenire su questo e quindi procedere anche a definire determinate sanzioni sulle modalità di utilizzo improprio dello strumento. Non ci sono immediate ripercussioni. Certo andrà fatta un'ulteriore riflessione nei collegi ai docenti o anche con gli studenti stessi a proposito di questa ulteriore stringente indicazione e quindi saranno le diverse scuole eventualmente a decidere di inasprire le sanzioni per coloro i quali lo utilizzano in maniera non autorizzata. Voi conoscete il rapporto molto stretto che c'è fra la Rete Veneti, i telespettatori, la città. Ebbene, se avete qualcosa da segnalarci, qualcosa che non va davanti a casa vostra, fatecelo sapere tramite una mail a vicenza-la-rete-veneta.it o via WhatsApp o SMS oppure tramite Facebook. Lo porteremo all'attenzione di chi di dovere, esattamente come abbiamo portato all'attenzione della giunta del Comune di Vicenza la situazione di Parco Fornaci. Ci sono novità? Il Parco Fornaci è un parco importante, è stato forse l'ultimo parco inaugurato proprio da un'amministrazione di centrodestra e l'obiettivo appunto è quello di riqualificarlo. Sappiamo che ci sono delle criticità ma lo sport aiuta anche a fare questo e quindi la creazione di uno skate park street, quindi dedicato proprio a chi vuole entrare in questo sport che tra l'altro è uno sport olimpico e quindi l'obiettivo è quello di occupare diciamo così positivamente i parchi della città con lo sport, con ragazzi, bambini e bambine che fanno attività sportiva. La giunta comunale ha finalmente approvato il progetto definitivo di ampliamento per la pista di skateboard al Parco Fornaci nel quartiere del Mercato Nuovo. Una vittoria anche per noi di Rete Veneta che avevamo portato agli assessori competenti la voce di molti cittadini che chiedevano da tempo la possibilità di implementare le strutture di questa disciplina olimpica anche per dissuadere la zona alla microcriminalità. È uno sport che anche fa sì che tutte le varie generazioni dai più piccoli ai più grandi riescano a condividere la stessa passione insieme. Credo che sia inaccettabile che la città non sia dotata appunto di un'area street per lo skate. Negli anni quest'area è stata salvata, anzi con sicurezza lo diciamo, da quello che è stato spaccio, degrado e questo genere di cose. Noi chiediamo appunto di poter avere o poter creare questa nuova area per dare più forza proprio alla vita sociale del parco. Sostenitore della bontà del progetto anche l'assessore Marco Zocca che anche grazie alla nostra insistenza ha trovato tra le pieghe del bilancio i 200.000 euro necessari per l'investimento. Sì, l'ho atto, voi ci avete perseguitato su questa vicenda in modo molto benevolo. Per noi è bello, è bello quando si danno questi bei risultati, queste soddisfazioni. Il mondo dello sport è importante, soprattutto il mondo giovanile, giovanile, quindi ritengo che era doveroso da parte nostra accontentarli. Uno sport che diventa anche sport olimpico, quindi questo è un grande futuro, speriamo per dei campioni vicentini. Ce l'auguriamo anche noi, per Rete Veneta dunque, missione compiuta. Passiamo alla cronaca, ruba la spesa un ragazzino arrestato dalla polizia. Sono le sei e mezza di sera e il buio è già caduto per strada. In corso senti felice e fortunato un 25enne del Burkina Faso strappa una borsa dalle mani di un ragazzino minorenne che sta rientrando a casa dopo essersi recato al supermercato. La giovane vittima grida e le sue urla arrivano a suo padre che dalla finestra di casa lo vede e chiama al 113 descrivendolo straniero. Gli agenti con una pattuglia lì vicina si precipitano sul posto e ascoltano la vittima che, conferma, sarebbe stata rapinata, strattonata e minacciata con delle chiavi dal 25enne africano. Intercettato il presunto responsabile è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Ancora cronaca, è stato arrestato anche il secondo autore della rapina ai danni di un anziano a Vicenza. I carabinieri arrestano anche il secondo malfattore protagonista con un altro uomo di un colpo messo a segno domenica sera a Vicenza, vittima a un 76enne che in via Zampieri aveva appena ritirato una vincita di 200 euro in un locale e l'aveva messa nel suo borsello. L'anziano però era stato preso di mira da due malviventi che lo avevano seguito e scaramentato a terra derubandolo. Mentre uno dei due aggressori, un italiano di 28 anni, sarebbe stato bloccato da alcuni residenti e arrestato dai carabinieri, il secondo, uno straniero, si sarebbe dato prontamente alla fuga. L'anziano intanto nel cadere aveva riportato delle serie fratture che lo avevano costretto a ricovero in ospedale. Subito si era scatenata la caccia al secondo rapinatore. Oggi, grazie alle testimonianze e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri lo hanno individuato. Si tratta di un 23enne della Guinea, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Il giovane, rintracciato, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restiamo nella pagina della cronaca. Vediamo l'esito dei controlli interforze effettuati ad Arzignano. Hanno sorpreso due minori a giocare con le slot machine all'interno di una sala giochi. Gli agenti della questura hanno pertanto sanzionato i titolari dell'attività. Monitoraggio che si inserisce nel più vasto dispositivo di controlli interforze effettuati nel territorio arzignanese. Sono degli interventi che riguardano il controllo sull'immigrazione, quindi chi soggiorna sul territorio senza averne titolo, il controllo anche della presenza di eventuali pregiudicati pericolosi sul territorio e poi anche azioni di prevenzione perché sono stati sorprese alcuni minorenni in alcuni esercizi per il gioco d'azzardo. Quindi si rilevano anche utili per fare prevenzione sul territorio su temi importanti e delicati. Al termine dei controlli il questore ha disposto due foglie di via obbligatori nei confronti di soggetti gravati da precedenti che per un periodo di tre anni non potranno tornare nel comune di Arzignano. Un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino extracomunitario non in possesso dei requisiti per soggiornare in Italia che dovrà lasciare la nazione entro sette giorni e due avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini che denotano una spiccata pericolosità sociale. Ora vediamo le prime parole del nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Io ho detto il piacere e l'onore di passare il comando al collega Andrea Gattuso quindi da oggi è lui il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Un gesto semplice e simbolico che sancisce ufficialmente il cambio al vertice del comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Vicenza. L'avvicendamento è avvenuto nella sede principale di Via Farini dove il reggente, l'architetto Giuseppe Costa, comandante uscente tornando ad occuparsi a tempo pieno della provincia di Treviso ha affidato la provincia verica ad Andrea Gattuso 58 anni, ingegnere, originario di Reggio Calabria dove dal 1995 era vice comandante. Ha partecipato alle operazioni di soccorso all'alluvione di Sarno nel 1998 e a quelle per il terremoto in Abruzzo nel 2009. La promozione di quest'estate mi ha consentito di ritornare al nord e devo dire con grande entusiasmo anche se Vicenza non la conosco ma so che è una sede importante una provincia molto importante e diciamo oltre l'emozione che ho in questo momento questo giorno di passaggio di consegne col comandante precedente Costa per me è sicuramente un onore, un impegno caratterò il massimo impegno per dirigere questo comando e soprattutto per dare risposte alla cittadinanza, alla popolazione quindi alle aziende, ai cittadini sia al soccorso tecnico che nel campo della prevenzione incendi. Torna anche oggi l'attesa rubrica dei vostri presepi. Torna anche l'attesa rubrica dei vostri presepi Asi! Torna anche l'attesa rubrica dei vostri presepi Grazie a tutti. Come spesso succede anche ultimamente, avrà come ospiti Fabrizio Boron, Nicola Falconi, Barbara Guidolin, Leonardo Padrin, Ivan Palasgo, Alberto Panfilio e Guido Rizzo. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, ma prima vi lasciamo al meteo.